Gli addetti ai lavori dell'ANAS hanno posizionato questa lunga barriera di New Jersey sulle siligate e protestano i residenti che si sentono in gabbia. Ci sentiamo in trappola e il grido d'allarme lanciato dai residenti che abitano nel tratto di strada statale lungo il valico delle siligate, dove da giorni l'ANAS sta lavorando per installare il lungo spartitraffico, il quale dovrebbe eliminare il rischio di incidenti frontali. Ma allo stesso tempo, nell'ottica dei residenti, è causa di un grande pericolo. Infatti i New Jersey, posizionati ad un metro e mezzo di distanza dal cancello delle loro case, creano una barriera che genera disagi quotidiani e peraltro non è funzionale alla riduzione della velocità. Nessuno, come ammettono gli stessi residenti, rispetta il limite dei 50 km orari. Un centinaio di essi si è costituito in comitato per impedire la nuova viabilità stabilita da ANAS. La barriera, infatti, rende difficili anche le inversioni di marcia, come raccontano gli stessi residenti. Io penso che è un pericolo continuo e non abbiamo più possibilità di uscire dal nostro passo che l'abbiamo pagato per 63 anni, che paghiamo il passo a l'ANAS e adesso ce l'è inchiuso con la barriera. Qui bisogna stare attenti che passano sopra, con la velocità, passano qui sopra i marciapiedi. Dobbiamo andare a Gabizze, dobbiamo andare prima a Cattabrighe, ma è mai possibile. Noi siamo ormai anziani e chi ci porta? Prima dovevano fare la rotatoria, poi se volerono fare questo lavoro lo potevano anche fare, però prima ci doveva anche agevolare un po' anche noi, chi siamo? Abbiamo pagato sempre tutto, abbiamo pagato tutto, è una cosa impossibile. Quando si esce è pericoloso, quando si entra è più pericoloso ancora perché vengono due le macchine dietro, io devo voltare, cosa fai? Adesso il Comune ci dovrebbe fare una bretella là dietro per non andare a girare laggiù in fondo, una bretella là dietro, così possiamo andare su per andare a Cattolica, giriamo qui per Fironzola. Quella è l'unica cosa che ci possono fare. Grazie.